Ciao a tutti, problemi del ritorno alle vacanze, si lavora durante l'estate e il caldo causa errori alla RAM perché qua abbiamo un sistema con quattro banchi, tutti belli vicini 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 vedete e avevo già messo una ventola sopra ma c'è una storia importante, questo sistema è stato costruito con un dissipatore stock intel il cliente si era convinto autonomamente che il sistema fosse surriscaldato senza nessun motivo logico e cosa ha fatto? ha provato a cambiare la pasta termica sul dissipatore stock intel, cambiando la pasta termica ha rotto i piedini della plastica tant'è che ha rimontato il sistema al computer e il computer crashava, gli ha detto scusa ma hai cambiato la pasta termica perché era caldo? no l'ha cambiata perché pensavo che fosse caldo perché era un dissipatore stock, gli ha detto ma hai controllato le temperature? non le ho controllate, va bene, apriamo un programma di controllo delle temperature dopo che aveva già cambiato la pasta termica e la temperatura era 99 gradi perché aveva appunto rimontato il dissipatore spaccando i piedini di plastica allora cosa ha fatto il cliente sempre? ha comprato un Noctua ora cosa succede? che il dissipatore stock spinge aria verso il basso e non spingere aria verso il basso raffreddava le RAM il nuovo Noctua invece spingendo l'aria tutto verso sinistra non raffredda in alcun modo le RAM il case è molto grande, ci sono delle ventole davanti ma fanno un momento d'aria troppo piccolo per arrivare sulle RAM e quindi niente, per evitare di dover cambiare di nuovo il dissipatore con uno stock il computer è con i 9800 ma undervoltato, engineering sample e quindi con una temperatura bassissima adesso sta a 40 gradi per esempio con questo Noctua prima stava sui 70 con il dissipatore stock ho costruito un piccolo convogliatore la cosa bella è che i colori sono quelli del Noctua andiamo a vederlo un po' sì, sono molto orgoglioso di come l'ho costruito qua c'è il tagliettino per la ventola per la vite scusate come vedete è qua, adesso l'ho già smollata e quando andrò a incastrarlo di nuovo chiudo la vite e il sistema è stabile sì, sta fermo ok, ho avviato la vite ma purtroppo non mi sembra tenere abbastanza quindi adesso dovrò ingegnarmi con un sistema con qualche fascetta per tenerlo più fermo anche perché ero noto che in questo punto potrebbe toccare la ventola ma già così comunque si vede che il sistema almeno ha l'apparenza di poter avere un senso e ok, così un piccolo pezzo di nastro di là e un incastro qua un po' meno bello ma la formazione adesso è stabile non si muove e quindi bene niente, con questo è tutto per il video ciao ciao